Ma ogni volta facciamo due o tre riprese. Con il tempo c'è stato quello che è molto male che è solo questo risultato. Ma lei ha solo 25 anni. La nostra musica è stata fatta da un ragazzo, è stata fatta da una persona che ha fatto il suo lavoro. E lui si è venuto fuori perché era una fan di me e Margaret. Ho chiesto il suo nome, Chris. No, non lo so. Ah ok, perché è stato in Kentucky. Questa persona era la che li fa ogni anno e siccome era un fan suo, di Margaret West, è andato lì a fare la musica della serie. E' una persona che fa la musica per i videogame della vita. Era anche presente come nelle scene in ultimo episodio che abbiamo visto, ci sono tre persone che entrano nel bar. E' stato nel centro. Di quelli che passavamo arrivando via dentro. Quanto è costata poi alla fine una produzione che si può dire amatoriale ma che comunque ha una qualità discreta. per curiosità anche di sicuro senza quelli che sono i fees poi di persone come lui ma proprio la produzione che costi ha avuto. Per il modo, nell'innovazione pagine. Per quello che andrà e per 6 giorni aveva avuto affittare la tutta, magari 5 giorni. and for all the people I was back, he wanted 8,000, and the Red Mage, he's a doctor, a car parker, and he's, he paid for the game, he's crazy too, I think, and then we sat down, maybe, four, five hundred dollars or so, that's how much, all the armor was from, just people, and all the costumes, women, they lived in Nashville, which is south of us, about 150 miles, so he drove up with two trucks with costumes, seven sand for me, and the maker for the works, we had some guys who made the gear, so, just on the spare moment, put everything together, and quickly, you know, that's what we have seen which is beautiful Well, by the way, we're asking you, how much, how many, you have pretty much, so, how much, so much, so much, you are very concentrated, so, then we'll see, let's remember, we're able to do it bello per il sesto altrimenti altra domanda alzate la mano così quante puntate avete apprevisto per ora? sono sei e no noi planiamo tre anni allora credo ce ne sono sei però hanno venuto di fare due o tre anni questa cosa qua quindi sei per stagione diciamo ma è molto ma è molto questi due sono i piccoli si se avete il salto e il salto sarà sicuramente entrato in caso di cantare se vedranno tutti fare una festa e non faranno le prese magari in due giorni si vince ma in caso di cantare a te altre domande facciate la mano se volete quindi non ne faccio mai io e salutiamo a me ok tu sei stato uno di un caro di x del mondo fantasy fin dall'inizio di trovarsi a ironizzare su questo mondo vi hai in qualche modo si direbbe di no la risposta è no però vi hai imbarazzato avendo avuto qualche timore di non so contraria al pubblico immesso dei giochi di ruolo fantasy si direbbe di no a me anche dai dai a questo un altro momento è sempre meglio chiedere che da no i'm serious about fantasy it's in my life but at the same time Sono un nude, play D&D, ci divertiamo. Non ci sembra di divertirsi. Non dovrebbe essere scarabbiato nessuno. La gente lo vedeva per quello che è, non dovrebbe essere scarabbiato nessuno. Mi piace di nuovo quella lettera. Grazie a tutti.